Pillole di non solo suoni, la storia della musica passa da noi. Ed eccoci di nuovo insieme nel nostro viaggio musicale che oggi ci fa tornare al 1987, l'anno in cui uscì un brano intitolato The Right Stuff, a cantare era Brian Ferry. Questa infatti è una canzone dell'ex vocalist e dei Roxy Music. Il brano fu pubblicato come primo singolo del settimo album, uscito proprio 35 anni fa, nonché venticinquesimo singolo dell'artista, e fu anche l'unico pezzo a entrare nella Top 40 nel Regno Unito, esattamente arrivando alla 37esima posizione. La canzone fu scritta a quattro mani con Johnny Marr e adattata rispetto all'originale Money Changes Everything, la B-side strumentale degli Smith rispetto al lato A, Big Mouth Strikes Again. A proposito della collaborazione con Ferry, Marr in un'intervista del 1989 disse che all'epoca Ferry non sapeva neppure chi lui fosse, ma stava cercando un autore che collaborasse con lui e qualcuno gli fece il suo nome. Poi gli fecero anche sentire alcune registrazioni degli Smiths e lui commentò che questi ragazzi suonano proprio bene. Poi appunto venne invitato in studio Marr, in realtà esistono anche versioni differenti su quell'incontro, ma ciò che conta è il risultato, un brano bello ormai senza tempo che piace riascoltare anche oggi. Nel video si vede l'artista vestito di bianco con le classiche giacche dalle spalle larghe imbottite con spalline che canta, mentre sul palco con lui c'è una donna vestita di nero con una veletta in testa a coprire parte del volto, ma ci sono anche componenti della band che accompagnano. È curioso osservare come molti fan e ascoltatori in genere che lasciano commenti sotto il video, lo definiscono charming, smooth, but haunting and hypnotizing at the same time, quindi con charm, fascino, morbido in qualche modo, ma anche ossessionante e ipnotizzante nello stesso tempo. D'altro canto, lui è un cantante e compositore musicista britannico, che insieme a David Bowie e Mark Bolan è anche uno dei più rilevanti rappresentanti del dandismo degli anni 70 e una delle icone della musica pop e rock britannica. Prima di intraprendere la carriera musicale si era laureato all'Accademia di Belle Arti di Newcastle e insegnava ceramica. È stato anche tra i fondatori appunto dei Rocksy Music nel 1971 e la sua carriera da solista, iniziata già durante la collaborazione con il gruppo, è poi proseguita. Il primo album da solista risale al 1973 ed era una raccolta di cover, tra le quali si distingueva, per esempio, il singolo è Hard, Raines e Gonna Fall, in origine di Bob Dylan. Negli anni 70 ha pubblicato altri quattro album che hanno riscosso un buon successo nel Regno Unito. Solo negli anni 80 però Ferry ha raggiunto lo status di star internazionale con l'album Boys and Girls del 1985, che aveva conquistato la prima posizione nel Regno Unito e poi era diventato un grande successo in tutta Europa e negli Stati Uniti. Erano seguiti un'altra serie di singoli di grande successo, poi invece negli anni 90 si era distinto soprattutto con altro genere di sonorità. Infatti va detto che mentre all'inizio diciamo che il suo genere era soprattutto quello glam rock, poi era passato ad un pop più raffinato con incursioni nella dance, in particolare durante gli anni 80 e poi negli ultimi anni soprattutto si sono sentite le influenze folk e jazz. Noi torniamo allora con l'orologio e la macchina del tempo virtuali musicali al 1987. Noi torniamo allora con l'orologio e la macchina del tempo virtuali musicali al